Musica Grandi ragazzi e finalmente siamo dal mitico Tania Ustia, guardate che coppia ragazzi, i magnifici treni Ustia, e buona pesca a tutti Musica Musica Grandi ragazzi, nuova mattina di pesca e per la prima volta portiamo il Ciso stavolta a vedere il lago Sgania Andiamo dal mitico Ustia, quindi Ustia stiamo arrivando Musica 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 Eccoci arrivati, iniziamo a inaugurare questa pescata qui da Ustia con questo spoon giallo rosso e la mitica aree dry montata con un trecciatino. E' un po' 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 Buona pesca! Attenzione! E' un po' Viene, ha fatto gusti la guida, la vera Eccola Spettacolo, quanti salti che ha fatto. Grande Ciso. E due. Bravissimo. Ragazzi attenzione che il Ciso ha una big. Spettacolo. Sembra veramente pesante. Sembra veramente pesante. Sotto riva anche. Ragazzi siamo giusto spostati. Super Ciso sta ruotando con una bella big. Presa qua sotto riva saltarello. E fa molto peso. Fa peso perché si vede che... è sul 14, ricordiamo eh. Ricordiamo che Ciso pesca con il 14. 14 che non è una pesca così per tentare la cosa. perché l'esca con il tiro del 14 si muove meglio in acqua. E attira di più il pesce. Ed eccola. bella. 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 eccola. bella. 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 grosso. porca vacca che bella. che bella. questo qua. è una bella pesce. veramente inaspettato. bella. vediamo. cominciamo a combatterla. una bella big. una bella big. ed ecco. ed è... ed è arrivata una bella big. pescando con la varia con questo spungiallo. non mi haato più ricco. è arrivata una bella, Autore dei sovrapposti